Il segnale al proponente Malapesta che nel suo testo, il testo che può dare come la richiesta, ha aggiunto, si mettono, le qualità di possibilità del percorso per la torre del concetto, visti i rapporti con tra noi e la prossima seconda. La prossima seconda non è domani. No, la prossima seconda, tanto che ho fatto la possibilità proprio domani, ho segnato, tenendo quello che abbiamo da fare, in angolo del giorno positivo, un po' per entrare a più, la seconda deriva. Domani non si terrà consiglio, ci siederemo a materi. E a noi che va a concorrer, non contiamo perché non ci abbiamo capito, alla fine della docazione del C.A. Con votazione della delibera di solidarietà, proposta di sospensiva nel testo dell'attività di solidarietà, di un'altra parola che viene aggettata. Grazie. 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 Sovran sharifia, la proposta di sospensiva è approvata. E quindi se la porta, la deriva viene inviata alla prossima. Allora, in conferenza da più, parliamo.